Musica Tiene banco a Catanzaro la vicenda relativa alla Sant'Anna Hospital a rischio chiusura. 300 dipendenti della struttura rischiano il posto. Abbiamo ascoltato in merito le dichiarazioni del sindaco di Catanzaro a Bramo. Stiamo lavorando, stiamo lavorando, non è una pratica facile, dopo le indagini ci sono state della procura, però quello che ci impensierisce tantissimo sono i 300 lavoratori, quindi stiamo lavorando tutti i giorni, preferisco non fare pubblicità, come ho già detto più volte, anche se dal mese di agosto che mi sto interessando del Sant'Anna, perché la pratica è molto delicata e quindi bisogna farlo senza fare grandi proclami, sperando di ottenere qualche risultato importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.